Come si batte la corazzata di De Blasio? Ma la corazzata si batte, guardi, il Titanic doveva arrivare primo a New York solcando i mari e battendo tutti i record e non ci arrivava mai. L'armata De Blasio, dunque, si può battere, Tony Ricciardi ne è convinto e non si mostra per nulla intimorito dalla sfilata di capi bastone che sostengono il presidente del PD. La lotta per la segreteria di via Tagliamento entra nel vivo, presentata ufficialmente la compagine di Campo Democratico con Tony Ricciardi, tanti i giovani in lista. Abbiamo le liste con l'età media più giovane, giovani professionisti, amministratori, militanti, casti integrati, gli diamo specchio e immagine a questa provincia. E per giunta siamo la lista che candida il candidato più giovane, e l'abbiamo candidato numero due. Tant'è Chiara De Matteis di Taurasi e se andate a vedere abbiamo messo le teste di liste ma poi le liste sono piene di giovani. Quindi chi ha esperienza si fa carico di traenarla e così abbiamo anche altri candidati a Chiusano San Domenico. Leggete le liste e troverete un sacco di novità che possono essere utili e dare una svolta a questo partito. A sostegno di Ricciardi non solo Salzarulo e Vittoria, da Roma è arrivato anche l'onorevole Goffredo Bettini. Il PD rimane l'unica grande carta per il riscatto della Repubblica Italiana ma rischia di non esserlo se non fa questo cambiamento. Qui molti amici, molti compagni hanno aderito a questo documento e sulla base veramente di contenuti, di un'idea, di un progetto, di trasformazione del PD hanno anche deciso di candidare una persona, un giovane molto bravo, molto in gamba a sostegno di queste idee. Quindi io gli auguro tutto il successo possibile perché naturalmente è importante che dai territori, dal basso, venga avanti una forza, venga avanti una voce autorevole, forte, espansiva attorno a questa necessità di cambiamento. Intanto è da registrare un clamoroso colpo di scena. A pochi giorni dal voto la Commissione per il Congresso ha escluso Antonio Caputo dalla corsa alla segreteria. Il regolamento prevede una lista collegata all'aspirante segretario. Caputo invece non ha presentato alcuna lista.